di provocare il dibattito, quindi non è che io ho un punto di vista, il mio compito è quello di stimolare il dibattito e facendo in modo di uscire da alcuni luoghi comuni e affrontare i problemi. Poi nell'ultimo quarto d'ora spetterà a voi fare le domande che saranno sicuramente più precise e dettagliate di quelle che riuscirò a fare io. Abbiamo come ospiti, se mi permettete partirei da Alice Scotti che è ricerca e sviluppo e marketing di Adria Ferra, una società del porto di Trieste che si occupa sostanzialmente della mobilità, poi lei lo spiegherà meglio di me, della mobilità interna delle merci al porto e verso l'esterno. Poi abbiamo Marcello Corazzola che è il managing director di Gruber Logistics. Gruber Logistics è una importantissima società di logistica, quindi di trasporti prevalentemente via terra, via camion, via tirra. Peraltro è cresciuta anche molto, avete fatto un'acquisizione, mi pare proprio in questi giorni assolutamente importante. Quindi un operatore che del problema del trasporto delle merci un po' se ne intende, visto che ogni giorno deve mandare centinaia di camion in giro per l'Europa. E poi Maurizio Fermeglia che è docente di ingegneria chimica all'Università di Trieste e che è un grande esperto di temi energetici e in particolare di questi su idrogeno e elettrico, che ringrazio di aver ritrovato qua, anche perché diciamo, per chi ha partecipato a precedenti edizioni di Trieste Next, lo ha trovato in un'era precedente, circa 150 anni fa, come rettore dell'Università di Trieste. Era quando Annibale passava le Alpi con gli elefanti. Era più o meno quello del periodo. Allora, dicevo un confronto assolutamente schietto. In questo momento, per quello che io sono riuscito a capire, c'è un grande dibattito se puntare sull'elettrico o puntare sull'idrogeno. Per capirci Stellantis sembra stia sempre più puntando sull'idrogeno anche per le auto. Perché dico anche per le auto? Perché muovere dei tir da 40 tonnellate o da 150 tonnellate con i sistemi elettrici è praticamente impossibile. arriveranno sul mercato, credo, il prossimo anno se ho capito bene, delle tecnologie per portare camion a 40 tonnellate, però con un'autonomia di 300 chilometri. che per un tir significa praticamente niente, considerando le percorrenze che devono avere. E poi c'è il problema della ricarica, ricarica delle batterie. Per cui l'elettrico sul trasporto delle merci su percorrenze lunghe è assolutamente complicato. Ecco perché entrano in campo le tecnologie a idrogeno. Perché questi, invece, i sistemi di motorizzazione a idrogeno potrebbero permettere di fare anche le lunghe percorrenze. Però su questo, sull'idrogeno, siamo forse ancora più indietro che sull'elettrico. Quindi, su quale tecnologia orientarsi? Ha un senso spingere sull'elettrico, ha un senso spingere sull'idrogeno. E quindi, su queste, diciamo, alternativa, poi magari scopriremo che non è un'alternativa secca, vorrei chiedere al professor Fermeglia, intanto, una prima inquadratura un po' più seria di quella che sono riuscito a fare io. Un set the scene, sarebbe come a dire, giusto? Tanto buon pomeriggio a tutte e a tutti. Allora, c'è tanta attenzione sull'idrogeno da parte della Commissione Europea, da parte dei player, da parte dei produttori e da parte degli utilizzatori. Dove potrebbe essere usato l'idrogeno? Essenzialmente in due grandi settori. Il primo, che non riguarda questa conferenza, sono quelle industrie che vengono definite hard to abate. Cioè, quelle industrie che, tipicamente, produzione di acciaio, produzione di vetro, produzione di ceramica e di cemento, dove ci sono dei consumi energetici molto, molto elevati, che potrebbero essere ridotti sostanzialmente utilizzando l'idrogeno, invece che altri fonti di energia. Premetto che l'idrogeno, e qui spero che, poi vi interrogo quando usciamo, l'idrogeno non è una fonte di energia, è un carrier energetico. Per cui l'impostazione che è stata data a questo TOC di confrontare l'idrogeno con l'elettricità è perfetta, è esatta, perché entrambi sono carrier. Perché lo dico? Perché non esistono giacimenti di idrogeno come non esistono giacimenti di elettricità in natura. Quindi confrontiamo due cose che stanno confrontabili. Detto ciò, il secondo ambito di utilizzo dell'idrogeno sta nella logistica pesante. Quindi è giusto parlare di questo. Perché? Beh, in primis perché trasportare idrogeno o gassoso, liquido lasciam perdere, perché bisogna arrivare, punto triplo dell'idrogeno è a meno 254 gradi centigradi. Quindi bisogna raffreddare a meno 260 gradi centigradi, che vuol dire essere circa 10-15 gradi vicini allo zero assoluto. Ora, chi parla di idrogeno liquido, evidentemente non ha connesso il cervello, non ha alimentato bene il cervello, perché arrivare a quelle temperature e mantenerle significa spendere un sacco di energia. Quindi si parla di idrogeno gassoso. Trasportare idrogeno gassoso è un problema. È un problema ingegneristico, perché esiste un qualche cosa che si chiama embrittlement dell'acciaio. Cioè l'acciaio, l'idrogeno è la molecola più piccola che esiste, quindi ha il potere di indebolire l'acciaio. Può essere trasportato a 300-350 bar o anche di più, quindi potete immaginare cosa succede di un tubo reso più debole dall'idrogeno che viene trasportato e può succedere di tutto e di più. Tant'è che chi dice che trasporta idrogeno nei tubi del gas, mente sapendo di mentire, perché il massimo che può fare è trasportare una miscela di idrogeno e gas naturale. Ma di questo, quindi l'infrastruttura di trasporto idrogeno non c'è e non ci sarà. Almeno non la vedremo né noi né voi giovani. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che pensare di avere un'automobile che vada a fare il pieno di idrogeno a Gonars o a Bazzera Nord è fuori discussione. No, sono dei distributori di benzina in autostrada, quindi è sostanzialmente fuori discussione. Allora dove può essere usato l'idrogeno? Può essere usato in quelle applicazioni in cui i mezzi tornano all'ovile. Scusate la metafora. Cioè laddove c'è un ritorno a un deposito all'interno del quale sia possibile fare un rifornimento di idrogeno. Il grande vantaggio dell'idrogeno è che i rifornimenti si fanno velocemente. Stiamo parlando di gas a 300-350 bar, non liquido. E questo è, immediatamente si capisce dove può essere utilizzato l'idrogeno. Autobus, rimorchiatori, locotrattori laddove le linee ferroviarie non sono elettrificate. Camion che devono andare avanti e indietro su tratti brevi e che quindi ritornano poi la sera. Perché? Perché appunto i tempi di ricarica dell'idrogeno sono di qualche minuto. I tempi di ricarica di una batteria che abbia la stessa potenza di trasporto sono dell'ordine delle ore. Questo è il punto fondamentale. Scusi, professor Fermiglia, Stellantis che punta sulle auto idrogeno? Anche Toyota puntava sulle auto idrogeno, ma secondo me non c'è mercato per questo. Stanno sbagliando tutto. Nel senso che lei dice che non è possibile fare il pieno al distributore? No, non è possibile che nell'arco dei prossimi 40 anni noi vedremo un'infrastruttura di distribuzione di idrogeno gassoso capillare in Italia o in Europa. Questo non è possibile. Se poi al distributore in autostrada si mettono un elettrolizzatore, pannelli e moduli fotovoltaici e si producono l'idrogeno in loco per poi alimentare le automobili, questo è eventualmente possibile. Però i costi di una produzione locale su scala ridotta non sono compatibili con i costi della ricarica elettrica. Quindi non ci siamo, quindi non ci sarà mercato per questo. Lo dico io da appassionato dell'idrogeno, per cui non è che bisogna essere realisti come ha detto lei, dottor Zovico. Quindi ci bisogna puntare a delle situazioni in cui ci sia una centralità del rifornimento. Può anche fare 400 chilometri o miglia marine con i rimorchiatori, però devono tornare all'ovile la sera. A questo punto il problema è l'idrogeno come lo produciamo e che senso ha parlare di costi dell'idrogeno. Per questo esistono diverse modalità, magari forse ne torniamo o ne riparliamo dopo. Comunque siamo tutti d'accordo nel dire che in questo momento l'idrogeno viene prodotto solamente al 95% nel mondo attraverso un processo chimico che si chiama steam reforming del metano e quindi a partire da fonti fossili. Questo ovviamente non è sostenibile perché si va verso l'idrogeno per fare in modo di non avere emissioni di CO2. E questo è sempre tra i perché andiamo verso l'idrogeno. Perché l'idrogeno a produrlo da acqua, alla fine non abbiamo nessuna emissione né di CO2 né di NOx né di SOx. Quindi siamo ad una propulsione che è sostanzialmente pulita. Sui costi si può discutere quanto si vuole, però io solo vi preannuncio una cosa che ho visto. Sono stato a luglio al convegno mondiale della Hydrogen Energy a Istanbul e lì c'erano gli americani che hanno detto noi tendiamo al 1-1-1. Cos'è il 1-1-1? Dicono un dollaro per un chilo di idrogeno in una decada da oggi. Quindi fra 12 anni negli Stati Uniti un chilo di idrogeno, produrlo, costerà un dollaro. Queste sono le previsioni. Non sono distanti perché oggi costa tre. Poi su questo costo di tre ne discutiamo perché gli operatori ci dicono che costa tra i 12 e i 20 euro al chilogrammo. Poi non so se c'è la sovratassa, eccetera. Però gli operatori hanno un'esperienza un po' diversa da questa. Il mercato non esiste oggi di idrogeno verde, non c'è. Quindi l'unico idrogeno che viene utilizzato è quello prodotto in raffineria sostanzialmente, dallo steam reforming, e quelli sono i costi. Ecco, però prima di passare agli operatori che quindi hanno, come dire, un'esperienza sul campo, le volevo chiedere un'altra cosa. Ma la ricerca sull'idrogeno, la mia impressione dagli operatori con cui ho parlato, è ancora tanto indietro? Beh, è una domanda, diciamo così, molto complessa. Quindi nelle prossime quattro ore io vi spiegherò tutto. Il punto è che... Ma no, magari torno verso mezzanotte. Sì, ma mezzanotte, che la fiamo per mezzanotte, non c'è problema. No, il punto è questo, che parlare di idrogeno non significa parlare di produzione e di utilizzo. E in mezzo però c'è il trasporto e lo storage, che non va sottovalutato. Quindi quando tu mi dici cosa si fa a livello di ricerca, si sta lavorando non tanto sull'utilizzo, l'utilizzo... Ragazzi, tutti voi conoscete il teorema di Carnot. Per cui, se avete un motore a combustione interna, il rendimento di un motore a combustione interna è del 30-35%. Punto. Il rendimento di una cella combustibile è del 30-35%. Non cambia nulla. Non c'è molto da fare a livello di utilizzo. dove c'è da lavorare molto è a livello di produzione e soprattutto di storage. Ci sono dei vincoli di safety, di sicurezza, sullo storage e sul trasporto. E l'ho già detto, non si può trasportare in tubi perché è un casino. E lì ci si concentra con la ricerca. Noi abbiamo ragionato, proprio all'Università di Trieste, su un case study, che poi riprenderemo, immagino, spero, che è il case study del porto di Trieste, ma ne parlerà Alice dopo sicuramente, in cui abbiamo ipotizzato di sostituire alcuni rimorchiatori, alcuni locotrattori e alcuni camion con dei mezzi alimentati a idrogeno. A partire da idrogeno verde, ovviamente ottenuto tramite fotovoltaico, principalmente perché l'eolico qui non regge. Ci torniamo, se volete. Dopo. Dottoressa Scotti, però prenderei, come dire, la palla al balzo. Intanto, quando è che li vedremo muoversi a idrogeno questi mezzi? Partiamo dal fondo della questione e poi ci spiega bene cosa sta facendo il porto. Perché io ricordo, il porto nel senso poi con le sue società diverse, perché io ricordo bene che due o tre anni fa, con Zeno d'Agostino, ragionavamo molto sull'elettrico e ho scoperto quest'anno invece che state lavorando sull'idrogeno. Però partirei dal fondo della questione. Quando è che vedremo dei mezzi a idrogeno muoversi dentro il porto di Trieste? Allora, buongiorno a tutti. Intanto, come diceva Maurizio, a queste domande è difficile dare una risposta. Ha inteso che il bando Greenports su cui si basa tutta l'applicazione dell'idrogeno all'interno dell'area portuale ha una scadenza definita, che è quella del 31-12-2025. Quindi noi, entro il 2025, dovremmo aver acquistato e aver pronti queste locomotive a idrogeno. Di fatto, quello che avrei anticipato dopo è che la delibera per l'allocazione di questi fondi, che doveva avvenire il 31-12-2021, non ha ancora avuto luogo. Quindi noi abbiamo preparato tutto l'iter per la predisposizione di queste schede progettuali, ma evidentemente c'è ancora qualche incertezza, proprio a livello ministeriale. E il MITE, pur avendo preso questa decisione dell'idrogeno, che come dicevi tu è un po' in contrapposizione... Il MITE, per spiegarlo, è il Ministero della Transizione Ecologica. Il Ministero della Transizione Ecologica, sì. ha, diciamo, fatto un'inversione di tendenza rispetto a quello che era stata la progettualità nei almeno cinque anni precedenti. Infatti l'autorità portuale ha tuttora, tramite PTS, delle automobili elettriche, ma tutto quello che è il bando Greenports, ovvero la progettazione che ha a che fare con il PNRR, prevede l'investimento di 25 milioni solo ed esclusivamente sull'idrogeno. E in realtà le autorità portuali, perché questo bando Greenports è finalizzato alla decarbonizzazione delle aree portuali, ha permesso la scelta alle autorità portuali d'Italia su quale vettore scegliere. Ma la scelta strategica, anche in linea con il piano di produzione di idrogeno che ci sarà da qui al 2027, ha fatto puntare all'autorità portuale, diciamo, di utilizzare l'idrogeno. Come vi dicevo, le risposte non sono semplici e ci sono più motivazioni alle spalle. Intanto, per fare un po' di chiarezza, quando si parla di trasporto merci, noi dobbiamo distinguere tra due che sono le business line di Adrefer, perché non so se ci conoscete, siamo il gestore unico della manovra, nasciamo come gestore unico della manovra all'interno del porto. Cosa significa questo? L'inoltro dei treni dalla stazione di Trieste-Campo Marzio, all'interno del porto e dei vari terminali, dove poi la merce viene caricata e scaricata dalle navi. Quindi, di fatto, siamo un po' l'anello di congiunzione tra il trasporto marittimo e il trasporto ferroviario. Allo stesso tempo, nel 2017, siamo diventati anche impresa ferroviaria. Quindi, questo significa che trasportiamo la merce da Trieste-Campo Marzio alle varie località e nodi regionali. Perché faccio questa precisazione? Perché quando si parla di trasporto ferroviario, in realtà, la scelta tra idrogeno e elettrico non si pone neanche. Perché il 72% della rete ferroviaria nazionale è elettrificato. Quello che vedete, le catenarie, ovvero le linee aeree che passano sopra i binari, con 3.000 volt di energia continua che viene fornita ai treni, permette praticamente di azzerare in loco le emissioni. Questo cosa significa che, a eccezione, parliamo del Friuli Venezia Giulia, del Gemonà, Sacile e Cividale, Udine, tutte le tratte ferroviarie all'interno della regione sono di fatto green. Le uniche emissioni di cui si può parlare sono quelle per la produzione stessa dell'elettricità. Quindi, per rispondere alla tua domanda... Sì, però, appunto, prima a margine mi spiegava una cosa assolutamente banale, alla quale non avevo pensato, e cioè che all'interno del porto non si possono tenere i cavi elettrici dove far scorrere i treni. Esatto. Perché per caricarle merci, evidentemente... L'altra componente, appunto, dell'inoltro dei treni che permette di fatto alla merce di arrivare dal treno alla nave non può essere effettuata con questa modalità perché le linee aeree 3.000 volt posizionate sopra a delle gru che caricano e scaricano dall'alto chiaramente non è compatibile. Quindi quello che stiamo facendo noi come Adriafer e come porto è cercare di decarbonizzare, quindi eliminare anche le emissioni di questo ultimo miglio, come si definisce in termini tecnici. Questo, appunto, è il motivo per cui il bando Greenports ha segnato e di cui siamo diventati affidatari 4 milioni per l'acquisto di locomotive a idrogeno che dovrebbero vedere la luce entro il 31-12-2025. Ammesso che poi esca il bando. Ammesso che questi soldi effettivamente arrivino. Ma quindi, in sostanza, va bene, parleremo, credo, domani mattina con Zeno D'Agostino e con il porto di Capodistria. Zeno D'Agostino, per chi non lo conoscesse, è il presidente dell'autorità portuale ed è, diciamo, uno dei maggiori visionari molto concreti tra i presidenti dell'autorità portuali e spinge molto, diciamo, su questi temi dell'energia e quindi ci racconterà magari domani anche lui tutto il piano di decarbonizzazione del porto che immagino sia più ampio. È più ampio. Chiaramente questi 25 milioni prevedono anche la produzione in loco dell'idrogeno che verrà quindi creata una comunità energetica di produzione e utilizzo. Quello che diceva di fatto Maurizio è che l'unica soluzione alla produzione e anche all'utilizzo dell'idrogeno è crearlo in loco e quindi quello su cui stiamo lavorando anche è, diciamo, creare un modello di green shunting quindi di manovra ferroviaria green che permetta un ciclo chiuso quindi dove tutto il trasporto, anche pubblico locale potrebbe agganciato il trasporto marittimo è chiaramente previsto che nei prossimi anni verranno create più impianti di produzione all'interno sia del porto che al suo esterno. Quindi abbiamo capito la direzione di marcia e abbiamo un interrogativo sui tempi se capisco bene. Esatto, diciamo. Bene, dottor Corazzola voi invece muovete i camion e siete i più odiati, diciamo sia dagli automobilisti che da chiunque abbia però state lavorando tantissimo sul fronte di una riconversione, diciamo, sostenibile dicevamo prima che i grandi mezzi di trasporto quelli da 120 tonnellate con l'elettrico non si possono muovere avete già cominciato a percorrere la strada dell'idrogeno cosa vi aspettate, in che tempi insomma, quello che è possibile ci racconti lei direttamente la vostra la vostra esperienza la vostra esperienza e anche tutto quello che state facendo per esempio mi risulta che voi state partecipando a un bando europeo per la sperimentazione e così via insomma, siete una delle aziende più avanzate su questi terreni quindi sentiamo da lei Bene, buongiorno a tutti cerco di fare il quadro intanto vorrei sfattare un mito perché tutti i trasporti su gomma in Italia in realtà contribuiscono solo al 7% del CO2 che mettiamo quindi è vero che dobbiamo fare tutti un nostro sforzo ma oggi tutto il mondo del trasporto diciamo che è così tanto odiato contribuisce a un 7% di produzione del CO2 ciò nonostante l'azione è molto complessa perché è complessa? perché da un lato ci sono queste nuove energie rinnovabili ci sono dei parametri europei che già messi che poi vedremo se li sposteranno o se li manterranno questo non si sa sicuramente tutti dovremo lavorare sul rendere il mondo più green perché non c'è dubbio che l'Europa è il continente che produce anche più il CO2 quindi è giusto che faccia di più per ridurre questo questo impatto e non è corretto secondo me confrontarci su cosa fanno in Asia perché alla fine loro producono anche meno CO2 quindi è chiaro che tutti abbiamo uno sforzo per trovare un modo per ridurre il CO2 abbiamo oggi due tecnologie principali uno è la parte elettrica e uno è la parte idrogeno consideriamo che se fino a due anni fa credo tutti pensavano che l'idrogeno fosse la soluzione di tutti i problemi del trasporto l'unica soluzione oggi questo è messo è messo un po' in discussione teniamo presente anche che ad oggi un camion elettrico costa quattro volte un camion diesel e quindi se noi andiamo oggi a parlare di TCO che è per semplificare il costo totale dell'utilizzo oggi non è possibile fare un trasporto green con mezzi elettrici o mezzi idrogeno perché sul mercato non è compatibile noi siamo partiti proprio in questi giorni con un camion completamente elettrico per un'azienda che conoscete perché che è la Electrolux ma perché si voleva fare un progetto di riluppo scena ma economicamente non è oggi sostenibile l'utilizzo né dell'elettrico né dell'idrogeno questo cosa vuol dire che vuol dire che nonostante l'obiettivo la volontà delle aziende di voler ridurre l'emissione di CO2 attraverso tutte le tecnologie possibili e conoscendo benissimo che anche tutte le case produttrici stanno andando verso tutte le tecnologie sia elettrico che idrogeno e che probabilmente alla fine magari vedremo che andremo su dei mezzi ibridi non più benzina elettrico ma idrogeno elettrico questo potrebbe essere una possibile soluzione con tutti i problemi anche che ci sono oggi di infrastruttura per poter avere dei mezzi oggi un mezzo elettrico che parte da Bozzano e va a Monaco non ci arriva se non costruiremo una centrale elettrica un riformamento elettrico a Vipiteno Brennero e se questo qui non è almeno di uno e mezzo 2 megawatt per poter ricaricare un camion non in due ore ma in 20 minuti o 30 minuti quindi devi creare un impianto che sia di una certa dimensione quindi cos'è lo scenario che da un lato ci sono sicuramente tecnologie che si svilupperanno l'elettrico e l'idrogeno la Commissione europea dice come indirizzo tutto quello che è elettrificabile utilizzando la batteria dobbiamo usare la batteria dove la batteria non sarà lo strumento più adatto andiamo sull'idrogeno quindi di fatto un po' quello che hanno detto anche i miei predecessori sui mezzi pesanti e noi pensiamo anche ai mezzi per trasporti eccezionali dove trasporti 100 tonnellate o 101 tonnellate quindi chiaramente lì non potrà per forza andare sulla parte diciamo così elettrica ma dovrà per forza andare sulla parte idrogena oggi entrambe le tecnologie hanno ancora dei punti interrogativi la produzione per l'idrogeno ma anche la parte linea o struttura distributiva per l'elettrico perché Eni produrrà 30.000 impianti nei prossimi due anni tre anni ma che impianti per ricaricare le moto le macchine o i camion dove li farà li farà in città per aiutare e supportare le auto elettriche o li farà all'esterno per supportare anche il sistema dei camion quindi oggi ci sono ancora diverse punti di domanda quindi quello che fanno le aziende e che fanno anche i casi produttrici perché ieri ad Annove c'era una importantissima fiera dove c'erano tutti e il futuro e questo futuro è che si svilupperà un motore a idrogeno sia per il motore endogeno che per quello elettrico si svilupperà ancora tutta la parte elettrica soprattutto per i mezzi diciamo piccoli e probabilmente non ci sarà una tecnologia che vincerà ma entrambe le tecnologie saranno adattate alla maggiore a dove serve rimane però un problema grandissimo che è il problema della transizione ecologica chi paga questo è difficile pensare che le aziende di logistica riescano a supportare questo incremento di costo senza riversarlo sul mercato ma riversare questi costi sul mercato vuol dire incrementare l'infrazione quindi è un tema che è molto complesso ma non solo non avendo una visibilità europea delle leggi e avendo delle leggi che cambiano ogni due anni noi abbiamo acquistato due anni fa 100 camion dell'NG oggi sappiamo cosa costa il gas i camion dove sono nel parcheggio costa meno un camion fermo nel parcheggio di quello che consuma e quindi bisogna anche una politica almeno io chiederei a 5 anni rolling che dia la possibilità agli aziende di fare degli investimenti perché se adesso noi investiamo sull'elettrico o sull'idrogeno e fra due anni tre anni cambiamo le leggi cambiamo le situazioni di mercato cosa fanno le aziende quelle forti magari riescono a superire e quelle deboli quindi secondo me il quadro è veramente compresso e non si può dividere secondo me cioè fra tecnologia fra case produttrici fra politiche e utilizzatori ma servirà per forza fare un tavolo comune e mettere le regole del gioco perché altrimenti per un'azienda è difficile anche fare investimenti investire 700 mila euro 600 mila euro su un camion elettrico non è banale quando un'azienda come noi ne abbiamo 700 capite che 700 camion vuol dire ogni anno comprarne circa 150 160 più quelli che vogliamo incrementare vogliamo arrivare a 1.500 quindi vuol dire 250 camion all'anno fate un conto e se sbagliamo l'investimento cosa succede e quindi cosa fanno le aziende rimangono sul biodiesel che non esiste va bene esiste esiste però è una bufa la terribile vabbè allora io la ringrazio molto per questa sua mi lasci aggiungere una cosa molto semplice poi c'è la disparità dicevo prima in Germania ci sono dei progetti di transizione ecologica che coprono quasi l'80% del progetto di transizione ecologica in Italia non ci sono questi quindi capite che è anche difficile riuscire a rimanere competitivi a livello europeo e questo perché magari aziende italiane come noi acquistano un'azienda in Germania perché sappiamo che lì abbiamo più possibilità di sviluppare un concetto green rispetto all'Italia quindi questa è la logica per la quale avete acquisito l'azienda che abbiamo acquisito è perché ci dispiace dirlo ma il 40% del mercato logistico europeo è fra Germania e Benelux quindi o sei lì e ti sviluppi in modo importante o se no non puoi svilupparti quindi la logica è prendere un'azienda molto forte in Germania in Benelux dove noi c'eravamo non eravamo così forti per poter sviluppare in quel mercato dove c'è la produzione logistica il nostro sviluppo però essere anche in un paese che è all'avanguardia eccetera eccetera che quindi vi aiuterà poi a transitare in Italia no dicevo che io la ringraziamo molto per questa testimonianza perché spesso le discussioni sono ah bisogna andare a elettrico bisogna andare a idrogeno non so se ricordate la discussione sulla plastica un paio d'anni fa poi è arrivato il covid siamo tutti tornati a usare la plastica e non si parla più di quel problema lì no cioè le mode purtroppo ogni anno ci propongono una qualche soluzione magica le soluzioni magiche non esistono esistono tanti problemi da affrontare con equilibrio e a volte senza neanche sapere dove si va a finire perché tante tecnologie appunto tu investi su una tecnologia e poi due anni dopo scopri che invece quella non funziona devi andare sull'altra e ovviamente le aziende devono fare molta attenzione soprattutto quando si parla di dimensioni di quel tipo lì però volevo aggiungerle una domanda che mi è venuta in mente adesso se può rispondermi se ne ha diciamo conoscenza tempo fa avevamo visto delle foto mi pare sulla Brebemi sull'autostrada dei cavi elettrici che correvano lungo l'autostrada sui quali i tir si collegavano esattamente come sui treni sulle Brebemi fanno la possibilità di ricaricare la batteria sull'asfalto quindi nell'asfalto c'è la possibilità che mentre viaggi di autoricaricare le batterie in Germania invece ci sono delle autostrade che per 20-30 km hanno i fili tipo quello del filobus dove i camion possono ricaricarsi per quanto per 20-30 km? in Germania sì quello che ho visto io poi non so quanto ci sono in Germania io quello che vedo quando viaggio in Germania ma sono due cose che stanno funzionando siamo anche lì a livello sperimentale cioè sono soluzioni praticabili? sono praticabili l'importante è che i mezzi che producono per esempio noi abbiamo acquistato una macchina full electric che ha già la tecnologia di ricarica dall'asfalto ma bisogna anche avere la tecnologia per poter autoricaricarsi comunque anche lì non è così banale perché c'è anche un rischio perché mentre uno va di neanche autoricaricarsi non è proprio il massimo comunque credo che avete ragione anche Maurizio c'è un altro tema molto importante che non abbiamo spregnato che elettrico e idrogeno siano tecnologie a consumo zero di CO2 nel loro ciclo sì ma c'è da capire il ciclo produttivo di produzione perché se produciamo elettrico e non abbiamo la filiera completa che è a emissioni zero in realtà rischiamo anche di essere peggiori rispetto al biodiesel è molto complessa la cosa molto complessa ma non siamo mica qua a risolvere questi problemi semplici se fossero semplici non saremmo neanche qua fare un festival in cui discutiamo tre giorni stiamo dentro cerchiamo di capire eccetera eccetera se si fa questa manifestazione è perché si vuole cercare di capire un pochettino e allora siccome le cose non sono semplici cerco di complicarle ancora di più perché questo tema del costo globale dell'impatto globale sia in termini economici no? assistiamo alla polemica che dice in parte giustamente cosa pensiamo che tutti siano in grado di comprarsi le Tesla? No come si fa come dire a un cento medio proporre un'auto da 50 60 70 mila euro perché deve essere elettrica con i problemi di ricarica e poi c'era un altro problema che sottolineava Maria Chiara Carrozza tempo fa dice poi noi prendiamo tutte le auto elettriche le nostre le vendiamo nei paesi africani le usano là e il problema dell'inquinamento come dire rimane globale allora c'è però un tema di fondo su quale vorrei interrogarla qualche volta vengono interrogati anche i professori poi voglio il voto però sì sarà bassissimo ecco immaginato questo è ovvio beh giustamente la vendetta di chi è stato studente ecco appunto riprovi fra due mesi adesso a parte le battute se no allora il il tema è ma come si produce l'elettrico l'idrogeno cioè se dobbiamo tornare alle centrali a carbone perché siamo senza gas per produrre l'elettrico o l'idrogeno alla fine paghiamo più costi quando probabilmente era più semplice come dicono per esempio alcuni costruttori di automobili efficientare meglio i diesel i benzina eccetera eccetera si raggiungono risultati più immediati a costi a costi minori sì il tema del costo sì ok ho capito il tema qui bisogna fare anche una distinzione una cosa è il costo ti faccio vi faccio un esempio di un dato di stamattina o di ieri sera la Tesla ha aumentato il costo al kilowattora l'ha portato a 61 centesimi di euro in tutti i suoi punti di ricarica 61 centesimi di euro per kilowattora a questo punto diceva beh cosa vuoi che sia 1000 lire delle vecchie lire no? bene ma se tu vuoi fare vari conti e scopri che con per fare 100 chilometri servono circa 11 euro di ricarica medio un po' di salita un po' di piano un po' di discesa 11 euro vai a prendere un'automobile ibrida qualunque o anche una piccola automobile da città e scopri che i consumi sono dell'ordine dei 5 barra 6 litri di benzina per 100 chilometri ma 6 litri di benzina costano meno di 11 euro molto meno costano circa 7 euro e mezzo 8 insomma comunque meno quindi non è questa la domanda che uno si deve porre perché se se la ponesse direbbe ma perché devo comprare una Tesla che mi costa il doppio e comunque poi quando vado a caricarla mi costa anche più ma perché non emetto CO2 o meglio non emetto CO2 nella misura in cui il grid il mix energetico nazionale che uso non utilizza fonti fossili e questa è un qualche cosa che tutti noi dovremmo pensare perché a questo punto uno dice va bene perfetto quant'è come è fatto il mix energetico italiano ecco dati di Terna siamo grosso modo sul 45 46% di rinnovabili attenzione rinnovabili vuol dire che abbiamo circa il 22% di idroelettrico e il resto è eolico fotovoltaico un po' di mare e un po' di ro e il resto a partolta una piccolissima parte di nucleare importato e qualche altra cosa che di poco conto sono fonti fossili carbone e gas quindi questo vuol dire che prendendo l'energia dalla rete per fare le ricariche non è che abbattiamo quello che dicevi anche tu prima non è che noi abbattiamo il consumo di CO2 semplicemente lo spostiamo dal tubo di scarico della nostra macchina alla centrale che produce l'energia elettrica se è carbone è un disastro e ce n'è ancora in Italia carbone basta andare a Monfalcone guardate non ancora andare al Sulcis basta andare a Monfalcone allora il tema qual è dove ha veramente senso un'auto elettrica parlo di auto adesso faccio una parentesi ma mi ha portato sul terreno scivoloso Filiberto Zovico quando tu hai un sistema di ricarica e di moduli fotovoltaici in casa allora sì che la cosa ha un senso perché il CAPEX cioè l'investimento scusa dell'impianto te lo sei già ripagato probabilmente te lo stai ripagando con la diminuzione dei consumi elettrici in casa quindi l'automobile ti fa addirittura da accumulo elettrico perché tu l'attacchi alla corrente di casa l'autoconsumo mediamente è dell'ordine di un quinto della produttività in una casa normale e quindi tu invece di vendere all'Enel la corrente che non te la paga quanto dovrebbe la prendi e ti ricarichi la macchina e con quella macchina poi vai in giro quindi trovi un discorso molto molto interessante anche molto complicato da fare ma ci sono delle app che lo fanno gratuitamente cercare di massimizzare l'autoconsumo del proprio sistema di produzione però qui c'è un grande punto di domanda che quando dico racconto queste cose qualcuno dice ma io abito in un condominio ecco appunto se tu abiti in un condominio non puoi metterti i moduli sul tetto e quindi devi per forza fare l'ipotesi Tesla quindi parlare di è complicato altro come dire in questo periodo in cui abbiamo sperimentato cosa significa essere dipendenti da un paese come la Russia che ricatta le democrazie con il gas se facciamo solo pannelli fotovoltaici diventiamo ricattabili dalla Cina ma no direi direi che questo è tutto può essere però di fatto la tecnologia per la produzione dei moduli fotovoltaici nasce in Germania e in Italia e poi è stata trasportata in Cina perché spesso gli industriali italiani hanno una lungimiranza pari a zero perché chiaramente quando porti una produzione in Cina la prima cosa che fanno in cinesi che sarà cinesi ma non sei stupidi ti copiano la tecnologia e adesso producono loro perché gli costa meno e in più hanno le materie prime perché se le sono sì però il problema voglio dire tutti mi dicono mi chiedono ma il silicio ma ragazzi basta andare in spiaggia lì è pieno di silicio non è mica un problema cioè non è un problema di materie prime per le batterie sì posso essere d'accordo c'è il litio ci sono tutte le terre rare eccetera ma per il silicio no è solo un problema di costi di produzione che noi potremmo affrontare nel momento in cui riportiamo la produzione in Europa ma questo è un discorso economico che non voglio toccare comunque il futuro è lì riportare la produzione di moduli fotovoltaici e paleoliche in Europa per dare risposta a questa domanda e poi il problema bilanciare il costo con una chiamiamola una sensibilità ecologica perché anche questo ha un prezzo ha un prezzo cioè quanto vale il fatto che io dico io mi muovo faccio mille chilometri e non emetto CO2 cioè per me per me Maurizio Fermeglia ha un prezzo e dovrebbe averlo questo prezzo questo diciamo così ritorno dovrebbe esserci per tutti è chiaro che non mi aspetto che i paesi in vie di sviluppo dove andremo a portare le nostre automobili abbiano lo stesso rispetto però insomma il tempo ci darà ragione spero va bene peraltro poi ti faccio un'ultima domanda cominciate a preparare le vostre diciamo no dicevo che su questi temi molto molto dibattuti una delle cose positive è questa libreria che abbiamo portato a Trieste Next con una serie di libri su questi argomenti anche contesi molto molto diverse per cui il consiglio che vi do al dia dei dibattiti è anche poi di approfondirli perché è un dibattito naturalmente si riescono a sfiorare i temi approfonditeli con i libri che avete diciamo qui a Trieste Next scusa c'è un libro di Nicola Armaroli che è bellissimo si intitola crisi è uscito gli altri ieri per cui provate no arriverà c'è? però ne abbiamo altri non c'è non è ancora arrivato per forza è uscito ieri esatto va bene a parte questa parentesi informativa ma lei ci parla di pannelli fotovoltaici di la soluzione probabilmente dal punto di vista di un convinto assertore della mobilità elettrica è produrla con la fonte di energia meno inquinante in assoluto che è il nucleare lo fanno qui a 20 chilometri anzi adesso raddoppiano la centrale non sono 20 ma sono anche 200 ma insomma 200 per il nucleare è zero lo fanno in Francia la Germania che aveva detto che le dismetteva non le sta dismettendo più e noi i soliti fessi tra virgolette che ci facciamo un po' di paranoia su tutto andiamo a comprarle in Francia in Slovenia eccetera eccetera per fare cosa? per fare le auto elettriche convinti che con le auto elettriche siamo ecologisti naturalmente ci serviamo di energia nucleare che dal punto di vista tecnico è pulita o sbaglio? no dal punto di vista del io faccio un po' come il tenente Colombo vi dico subito chi è l'assassino cioè io sono contrario all'energia nucleare e adesso vi spiego anche perché ma il tema è questo vogliamo produrre idrogeno via elettrolitica quindi green va bene quindi abbiamo bisogno di elettricità rinnovabili o nucleare questo è il dilemma la risposta è no non è un dilemma possono essere compatibili beh si può darsi comunque cioè il 45% che non coprono i rinnovabili lo fai invece che col gas che inquina vediamo per adesso li affrontiamo separatamente vediamo pro e contro dell'una e dell'altra e vediamo qual è la situazione immaginiamo di volerlo fare allora intanto eliminiamo subito un dubbio ci vogliono tempi lunghi per entrambi per il nucleare tempi più lunghi delle rinnovabili quindi già lì vi dicono dato che siamo sui tempi vi dico solo che la centrale di Flamaville in Francia o in questo momento tra Europa e Stati Uniti ci sono sei centrali nucleari negli ultimi 30 anni che sono state costruite o alcune sono ancora in costruzione quindi chi dice che il nucleare sta avendo uno sviluppo incredibile mente sapendo di mentire perché in 30 anni sei in tutto il mondo europeo e statunitense è poco una di queste quella francese di Flamaville era stata progettata per essere costruita in 54 mesi ci sono voluti 186 mesi per farla il costo della centrale di Flamaville previsto da progetto era di 2,5 milioni di euro a megawatt tenete conto che una centrale di quel genere viaggia attorno al gigawatt e due gigawatt e mezzo quindi fate subito i conti quanti miliardi ci sono questo costo da 2,5 è passato a centrale finita 7,5 questi sono euro milioni di euro per megawatt leggo perché i numeri non mi ricordo scusi professore ma non era stato lei a dire che pur di viaggiare puliti si poteva spendere qualcosa in più sì ma io li spendo installando 70 gigawatt di rinnovabili io così li spenderei anche perché se tu vuoi emettere vuoi fare un utilizzo del nucleare per fare l'idrogeno sostanzialmente per arrivare a net zero e questi sono dati dell'Enel quindi non di Maurizio Fermeglia l'Enel dice che se vogliamo arrivare a net zero con le rinnovabili spenderemo 214 miliardi di euro al 2050 se lo vogliamo fare con il nucleare spenderemo da 300 a 450 miliardi di euro questo perché semplicemente perché quello che viene normalmente utilizzato come indice di misura economica per la produzione di energia si chiama LCOE è un acronimo che sta per Levelized Cost of Energy è un metodo standard internazionale mondiale per calcolare il costo della produzione dell'energia non il prezzo attenti il costo di produzione e l'LCOE del nucleare è enormemente più alto rispetto all'LCOE delle rinnovabili sia che esse siano fotovoltaico che eolico e poi c'è un altro aspetto ancora più rilevante queste sono purtroppo cose che è difficile discutere a tavola c'è un altro indicatore molto importante che si chiama ROA che è una specie di ritorno dell'investimento energetico l'ROA è un acronimo che sta per Energy Return of Energy Invested tu per fare energia devi spendere energia fai il rapporto dell'energia che spendi su quella che produci viene fuori un numero puro adimensionale più alto è questo numero e migliore è il sistema di produzione il fotovoltaico ha un ROA che oscilla tra 25 e 30 il nucleare ha un ROA che è dell'ordine dai 14 15 quindi vuol dire che tu spendi tanta più energia nel nucleare per avere la stessa energia che tu potresti tenere con le rinnovabili e poi c'è l'ultimo aspetto dopodiché lascio a voi decidere perché abbiamo toccato un discorso di tipo economico un discorso di tipo energetico quindi abbiamo l'indicatore il terzo l'ultimo indicatore è l'ambientale perché mio Dio andiamo a fare un life cycle assessment di cosa vuol dire produrre energia nucleare se lo facciamo scopriamo immediatamente che l'impatto sulla salute umana per la gestione delle scorie è enorme perché il nucleare di terza generazione per l'amor di Dio evitiamo di parlare di quarta generazione che non esiste e tantomeno di fusione perché nel 1970 quando studiavo mi dissero la fusione arriverà tra 30 anni ieri ho parlato con gli amici fisici e ho chiesto scusa la fusione e ci vorranno 30 anni va bene allora nel 2050 più o meno è come con l'idrogeno arriverà 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 quindi voglio dire e chiudo se fate un LCA completo del nucleare vi rendete conto che sulla terza generazione l'impatto sulla salute dell'uomo è enorme chiaro sul global warming no perché non produce CO2 però anche le rinnovabili non hanno impatto sui global warming quindi non ho poi se avete altre tre ore avete capito che appunto siccome ci conosciamo abbastanza bene di questi temi abbiamo discusso che il mio compito era provocare sugli argomenti ribattendo colpo su colpo per evitare che rimanessero come dire delle sacche di non detto per quello che mi era possibile se mi lasciate solo 30 secondi secondo me una cosa importante che ha detto Maurizio è che alla fine quello che farà la differenza nel futuro sarà la sensibilità green delle aziende perché se noi aspetteremo di fare qualcosa sul green per i contributi per queste cose qua non funzionerà bisognerà fare comunque qualcosa a prescindere dei piccoli esempi noi a parte che abbiamo in tutti i nostri impianti i magazzini uffici abbiamo comunque messo le colline elettriche perché prendiamo le macchine elettriche stiamo considerando un magazzino a Verona dove facciamo un impianto fotovoltaico non in base a quello che ci chiede la legge ma completamente con le batterie di accumulo credo che le aziende possono fare qualcosa anni fa erano in Germania ancora penso dieci anni fa per i primi mezzi elettrici mi dicono sì ma non fate mezzi elettrici per poi ricaricarli con la città normale perché non funziona dovete avere una cultura green se volete usare e questo è un po' quello che ci manca un po' bisogna veramente che tutti noi e penso che ognuno può fare per conto suo debba cercare di avere questa sensibilità di rispetto del pianeta perché solo facendo così secondo me riusciremo a uscire da questa situazione qua se tutti aspettiamo che qualcun altro faccia qualcosa sarà difficile quindi proprio questo concetto di sensibilità green è proprio quello che ci servirà noi se vogliamo avere una mobilità delle merci e delle persone a impatto non dico zero ma meno possibile noi puntiamo ad avere un bilancio energetico zero o addirittura negativo certo per fare questo lo facciamo non solo attraverso i camion ma attraverso anche come si spostano i nostri collaboratori e come facciamo i magazzini di logistica quindi questo io il messaggio è che tutti dobbiamo contribuire ad avere un pianeta più verde lei ha talmente ragione che anzi io lo rilancio questo concetto c'è questo straordinario libro di Maxime Bedard che si chiama Il lato oscuro della moda che spiega sì le imprese devono fare la loro parte ma le imprese agiscono sulla base di quello che chiedono i consumatori allora questo libro di Maxime Bedard spiega che finché noi andremo a comprare vestiti da come è che posso dire da queste catene di fast fashion non volevo fare i tre nomi saremo noi ad alimentare diciamo no una cosa di questo genere quando smetteremo di andarli a comprare perché ci rendiamo conto e il libro racconta proprio come si producono questi vestiti che poi vengono venduti a 20 25 30 euro eccetera eccetera e quindi di quanto siamo colpevoli noi quando andiamo a fare questi acquisti beh allora le aziende assorbiranno quella che è la domanda di voi di noi consumatori e cambieranno anche le aziende ma adesso abbiamo rubato troppo tempo lo lascio a voi alzate la mano abbiamo i microfoni pronti uno là in fondo poi uno qui davanti allora volevo domandare due cose innanzitutto quando si parla di impatto ambientale si deve contare anche il consumo di aria o di acqua per quanto riguarda la produzione di l'idrogeno quant'è il consumo d'acqua quindi innanzitutto questo seconda cosa la Federal Preserve ieri ha alzato i tassi di 75 punti in base in un quadro dove l'inflazione non sembra scendere come supposto quanto è fattibile un aumento degli investimenti sulle energie rinnovabili grazie rispondiamo a tutte le domande assieme un colpo solo c'era qui davanti giusto? se qualcun altro ha da fare domande alzi la mano una là poi una là la mia domanda era se noi volessimo generalizzare un attimo questi discorsi a ciò che inquina un pochino di più anche non so che anche il riscaldamento domestico viene fatto con fonti fossili insomma il gas metano esatto il gas metano si potrebbero applicare ad esempio le soluzioni elettriche o a idrogeno per il riscaldamento domestico o altre insomma punti critici in cui si inquina di più? Le salve io ho questa domanda ho letto negli ultimi periodi degli articoli inerenti a fonti rinnovabili tra cui le biomasse e chiedevo se anche queste possono essere considerate magari come uso di impiego non dico in primis per le automobili però come eventuale piano alternativo in merito appunto alle fonti rinnovabili grazie lì in fondo e poi qui davanti io volevo chiedere al professor Fermeglia sul confronto diciamo tra nucleare e rinnovabili sicuramente un contro diciamo dell'eolico e del fotovoltaico è l'intermittenza cioè il fatto che non possono produrre diciamo in modo continuo ma dipende appunto da quanto vento c'è quanto sole c'è quindi qual era la sua opinione diciamo in merito a questo vantaggio del nucleare sulle rinnovabili di questo tipo grazie altra domanda se qualcun altro alzate la mano guarda che poi io mi dimentico prendi nota prendo nota cioè quando fate lezione voi pretendete che i ragazzi prendano nota adesso prendi il buffer è un limite fisico domanda domanda io volevo chiedere fin quando il mix energetico usato non sarà completamente derivante da fonti diciamo rinnovabili o comunque a costo zero quanto effettivamente è conveniente l'utilizzo di macchine elettriche rispetto a quelle a benzina diesel o quello che vado bene ci sono altre domande una qui ma poi un'altra lì la mia domanda era in tutte le tematiche che sono state toccate in questo diciamo dibattito il tempo è la la variabile che in realtà non è mai stata definita perché nella transizione energetica il tempo come è stato già detto dal professor fermeglia potrebbe anche voler intendere 30 anni per poter raggiungere un obiettivo e quindi quello che mi chiedo forse è l'interrogarsi sempre su quale fonte scegliere se l'una piuttosto che l'altra se l'idrogeno piuttosto che l'elettrico ci sta portando a non a non riflettere e a non sfruttare poi le conoscenze che la ricerca scientifica potrebbe mettere in atto rispetto a quale è più vantaggiosa appunto in quello che è il futuro non prossimo perché è impossibile ma il futuro appunto di 30-50 anni ok direi che questa è l'ultima domanda ah no due una cosa velocissima la sicurezza per gli accumulatori e le batterie soprattutto per l'incendio perché a me consta che nei condomini dove ci sono i box condominiali non si possono mettere ricariche plug-in esatto ultimissima domanda poi ok per quanto riguarda l'esempio sul prezzo dei 70 gigawattora tra rinnovabili e nucleare perché a un certo punto è stato detto che costa di meno produrli con con le rinnovabili ma per quanto riguarda invece ad esempio il numero di impianti necessari per produrre con le rinnovabili quei 70 gigawattora cioè ad esempio quanti ettari di terreno servirebbero ricoperti solo di pannelli fotovoltaici pannelli solari per produrre 70 gigawattora e quanto invece e quindi poi anche consumo di batterie o altre risorse che vengono utilizzate rispetto invece a una centrale nucleare che per quanto magari con un prozzo più alto richiederebbe sicuramente meno spazio e meno risorse per produrre quei 70 gigawattora bene allora io sarei per fare questo accordo con voi sapete che i relatori di Trieste Next al termine dell'incontro si spostano fuori dalla sala per cui se qualcuno ha altre domande o se ha questa sfilza infinita di domande a cui abbiamo sottoposto credo in particolare il professor Fermeglia magari le potete appunto continuare dopo volevo prima chiedere se c'era qualche punto di queste domande sulla quale avevate qualcosa da aggiungere voi l'unica che mi sento di poter eventualmente rispondere è la prima domanda sulla parte investimenti con il tasso di inflazione in crescita no io credo che le aziende devono avere una visione a lungo termine questi sono l'obiettivo delle aziende e non si devono preoccupare dell'andamento momentaneo del mercato perché altrimenti non riesci a fare un piano di investimento quindi non è che arriva il covid e blocchi gli investimenti gli investimenti li devi continuare a fare esattamente anche in momento di crisi perché la crisi i soldi non spariscono si muovono all'interno del mondo non spariscono i soldi quindi non devi avere paura della situazione momentanea per gli investimenti quindi io credo che le aziende sane ragionano con una visione almeno a 5-7 anni e non si preoccupano della crisi altrimenti noi non avremmo fatto in questo momento visto che sicuramente la crisi arriverà nei prossimi mesi non avremmo dovuto fare l'investimento invece lo facciamo proprio per superare la crisi quindi credo che il rapporto inflazione o costo del denaro non bloccherà sicuramente le aziende degli investimenti tutte le altre domande credo che siano tecniche grazie un amico a 4 ore per rispondere 11 minuti mi conti micronometri dunque allora prima cosa quanta acqua serve la chimica non è un'opinione ogni mole di acqua genera una mole di idrogeno quindi peso molecolare dell'acqua 18 per esempio dell'idrogeno 1 quindi il rapporto in peso è 18 a 2 quindi vuol dire che se io ho 9 chili di acqua produco poi c'è l'effetto efficienza di mezzo le perdite eccetera produco circa un chilo di idrogeno ok un rapporto 10 a 1 non è un problema oltretutto non è un problema perché gli elettrolizzatori della vecchia generazione lavoravano con acqua demineralizzata per cui acqua fresca acqua dolce che veniva ulteriormente abbassata in termini di durezza i nuovi elettrolizzatori funzionano con acqua di mare quindi con acqua che abbia anche un leggero contenuto di salinità perché migliora la prestazione dell'elettrolizzatore questi sono quelli di nuova generazione quindi l'impatto in termini di consumo di acqua non esiste cioè non c'è oh mio dio idrogeno o elettrico domestico è bella idea però il problema sta negli impianti di riscaldamento domestici la stragrande maggioranza delle case ha un impianto di riscaldamento tradizionale a termosifoni e non ha diciamo così impianto di riscaldamento a pavimento che sarebbe molto meglio perché lo dico perché la mandata l'acqua dimandata dalla caldaia per un impianto termosifoni è dell'ordine dei 60 63 64 gradi mentre l'acqua dimandata per un impianto di riscaldamento a pavimento è dell'ordine dei 30 32 gradi questo cosa vuol dire vuol dire parliamo dell'elettrico ma per l'idrogeno uguale vuol dire che se utilizzare dei moduli fotovoltaici e mettere una pompa di calore consumi l'energia elettrica autoprodotta questo ha un senso si arriva a 32 gradi di mandata ma non si arriva a 65 gradi di mandata quindi per poter veramente utilizzare pompe di calore in casa bisogna avere un riscaldamento a pavimento purtroppo solo oggi è disponibile veramente in maniera economica io ho fatto la casa 24 anni fa e me l'avevano proposto però i costi erano assolutamente fuori e chi avrebbe pensato a Putin 24 anni fa chi avrebbe mai pensato a Putin per cui adesso sono qui che mi rodo però cambiare un impianto di riscaldamento tradizionale con uno a pavimento significa beh immaginate cosa significa ecco idrogeno esistono dei produttori italiani che fanno delle caldaie di idrogeno collegate agli impianti fotovoltaici di casa fantastico peccato che se voi beh i più anziani sanno che se avete una caldaia dovete fare il collaudo della caldaia ogni due anni se avete una caldaia idrogeno va fatto ogni sei mesi e non ci sono tecnici che sono in grado di fare il collaudo della caldaia idrogeno quindi per ora è fuori discussione biomasse vi ho già spiegato prima cos'è l'eroe il rapporto tra bene il rapporto il valore di eroe per la produzione di energia da biomasse è di 1,2 cioè io spendo un kilowattora per produrne 1,2 non ha nessun senso perché non ha senso perché tutti voi sapete o immagino che immaginate che più grande è fatto l'impianto e più basso il costo al kilowattora è più alta l'efficienza perché se no non faremmo le centrali così grandi se fate la centrale biomassa vuol dire che questa centrale biomassa ha bisogno di tanta biomassa in ingresso che però non cresce attorno alla centrale ma cresce distante il che significa che quando fate il calcolo dell'energia spesa per produrre l'energia dovete mettere in conto tutta l'energia dei camion che va a prendersi la biomassa e la trasporta fino alla centrale questo impatta sia nel calcolo dell'eroe che nel calcolo dell'life cycle assessment perché quelle sono emissioni diesel a meno che non mettiamo i camion a idrogeno cosa che non è il caso in più c'è il problema di quale biomassa usiamo usare biomassa da boschi è demenziale perché questo va contro qualunque tipo di diciamo così sentimento ambientalista non si deve usare quel tipo di biomassa eppure la usano la usano anche tanto e forse troppo quindi bisogna usare quella che viene chiamata la biomassa diciamo di scarto e non ce n'è tanta e soprattutto è distante dai centri di produzione quindi volete la mia opinione lasciate stare lasciate i boschi e speriamo che non vengano altri incendi e che continuino ad andare avanti perché abbiamo bisogno dei boschi perché ricordiamoci che il bosco è un ripulitore di CO2 e di questo noi abbiamo tanto bisogno poi tempo tempo sì chi ha detto ha ragione ha ragione non abbiamo tempo noi abbiamo un accumulo di CO2 che ha superato i 420 quarti per milione in atmosfera nell'era preindustriale questa concentrazione era dell'ordine 310 questo aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera ha portato finora ad un aumento di una temperatura globale media nel pianeta di 1,2 gradi rispetto all'era preindustriale gli accordi di Parigi avevano stabilito massimo 1,5 di questi 1,5 ce ne siamo già fottuti 1,2 non ci resta tempo per recuperare 0,3 gradi apro una parentesi questi numeri che vi sto dicendo sono aumenti di temperatura media globale del pianeta qui siamo in una bellissima regione Friuli Venezia Giulia però siamo purtroppo in mezzo a due hotspot uno è l'Adriatico del nord e l'altro è le Alpi questo vuol dire che l'hotspot vuol dire che l'aumento di temperatura prevista negli hotspot può essere di 2 3 volte superiore 3 volte tanto quella media globale del pianeta quindi se arriviamo a un grado e 2 qui e di fatto si sta misurando questo noi siamo già a 3 gradi di aumento medio nella regione Friuli Venezia Giulia non siamo messi bene ci sono posti che stanno meglio ma ci sono posti che stanno anche peggio di noi e uno dei posti dove si sta peggio è l'Artico a Groenlandia perché lì la previsione è di 4 5 gradi a breve e quindi vuol dire che quel ghiaccio lì si scioglie per cui quando mi chiedono ma cosa farebbe lei in Portovecchio no facciamo spostiamo mettiamo mettiamo la produttiva io ho sempre risposto io lo alzerei di un metro che forse è la cosa più seria che si può fare e quindi il tempo è un problema e vi dirò di più non ho il tempo non ho il modo oggi di dimostrarvelo però più tempo perdiamo noi adesso nell'attivare un processo di decarbonizzazione e peggio è perché la CO2 si accumula e non se ne va quindi il fatto di fermare l'emissione deve essere fatto subito perché poi noi quello che impatterà nella nostra vita futura è l'integrale della curva di decrescita della CO2 e non semplicemente la curva di decrescita più tempo perdiamo adesso più siamo sicuri che al 2050 non arriveremo a net zero ma bisognerà anticipare l'arrivo net zero al 2040 questo significa che la curva di discesa è molto più ripida a proposito del tempo abbiamo tre minuti ancora e io ho praticamente finito perché vabbè la sicurezza delle batterie è vero le batterie hanno dei problemi d'incendio bisognerà risolverlo certamente che cosa c'è scritto qua non mi ricordo più il mix del green chi era ha chiesto qualcosa sulla miscela se costa di meno produrre alla fine nucleare o produrre il costo è l'LCOE l'LCOE levelized cost of energy mi dice chiaramente che il costo di produzione delle nucleare è molto super soprattutto negli ultimi dieci anni è balzato a valori incredibili a causa di cosa principalmente inizialmente di Chernobyl ma Chernobyl era un errore umano sostanzialmente ma Fukushima ha dato un colpo di grazia ai costi del nucleare perché tutti si sono resi conto che bisognava duplicare se non triplicare tutti gli impianti di supporto tutta la logistica che sta intorno perché Fukushima non è saltata in aria perché c'è stato un errore umano perché è venuto a mancare le pompe di circolazione del circuito primario e questo non c'entrava niente con il reattore semplicemente il reattore non è stato più raffredato perché la pompa non ha funzionato più perché è arrivato lo tsunami quindi capite cosa uno deve andare a pensare per mettere in sicurezza una centrale nucleare in Italia cosa possiamo fare ecco questo è un discorso che può avere un senso voi sapete se voi andate sul sito di Terna trovate la potenza elettrica erogata giorno per giorno in Italia ho dato un'occhiata ai dati di oggi e c'è un minimo di potenza che sostanzialmente va attorno alle 4 5 di mattina e poi c'è il massimo che è nelle ore diurne il minimo è 30 gigawatt il massimo grosso modo è 60 50-60 gigawatt oggi era 45 cosa vuol dire questo questa è rete elettrica questo vuol dire che per evitare blackout in Italia il nostro sistema elettrico Terna deve erogare sempre almeno 30 gigawatt ci siamo? gli altri vengono erogati solo se serve e serve quindi il discorso dell'intermittenza è relativo perché se io garantisco lo zoccolo di 30 gigawatt e lo garantisco con l'idroelettrico di quei 30 20 sono dall'idroelettrico ho bisogno di garantirne 10 ci torno su quei 10 il resto le rinnovabili lo fanno perché lo fanno durante le ore in cui c'è il consumo ovviamente bisogna aumentare se si vuole avere una produzione maggiore in modo tale da produrre idrogeno ma per questo sto dicendo 70 gigawatt totali in Italia di picco basterebbero 40 ultimo ragionamento che si basa su questi dati è se io volessi fare quei 10 gigawatt che mi mancano tra l'idroelettrico e i 30 che sono il minimo col nucleare dato che il taglio di una centrale nucleare è dell'ordine di 1 gigawatt 1 gigawatt punto 2 avrei bisogno di circa 10 15 centrali nucleari o meglio reattori nucleari allora io ai nuclearisti gli dico bene ditemi dove le mettiamo ditemi dove le mettiamo in Portovecchio prima che finisci in Portovecchio dopo che l'abbiamo alzato di un metro esatto allora grazie mille a tutti voi per essere stati così attenti speriamo di non avervi annoiato e di avervi dato una serie di spunti grazie ad Alice Scotti grazie a Marcello Correzzola e grazie al professor Fermeglia adesso i relatori si fermeranno qui fuori alla mia sinistra se volete pongli domande grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti